Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo piccolo video su Castle Clash perché volevo informare chi non lo sapesse e chi non andasse tutti i giorni a vedersi gli eventi che hanno messo un particolare evento registrati ogni giorno che ci permette di ricevere frammenti di skin di Cupido quindi la prima skin di Cupido ci verrà regalata ma la cosa importante è andarsi tutti i giorni a ritirare il premio così da riceverli tutti quanti e riuscire a completare la skin volevo informare appunto chi per non far sfuggire a nessuno questa cosa se il video vi è stato utile lasciate un bel like e un commento io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video